Dio qui, in uso del paese di Bedralba che Francesco Lugiano ha principiato a scrivere. Una maniera di compone che le veniva da prima in modo tradizionale con una trasmissione in bocca. Stendo assente impruisata e di uso abbone, o di i suoi zii, ha cominciato anche a giocare con i barulli e i rime. E poi c'è stato usato in esprimese ed è bruciato che la via in Cabo e tanto sono nati i primi desti. Non c'è mica veramente sintomi pubblici. Quando ho detto qualcosa, l'affare si traduce con la scrittura o semplicemente con un modo di pensare. C'è un rime che mi viene in Cabo e l'affare è piccio. Cioè, l'aspirazione, l'amuse che ho avuto in faccia di un po' di paese, di una montagna, di sue moraiche. In qualche luogo abbiamo l'identità. C'è una ruptura in modo tradizionale che, in qualche luogo, può essere rimpiazzata, dove oggi è bene, a scuola, ci ha trovato anche per la letteratura. Ma accanto a questo penso che c'è una produzione che è abbastanza ricca. Perché la lingua corsa, c'è la famiglia di so, ha evoluato a un livello di statuti, ma anche a un livello di mentalità in Corsica. e faccio che ogni quanto i giovani hanno coscienza di qualora la sua lingua, di collaborare a presentare una lingua per un popolo, per una gioventù, faccio che c'è una produzione che è abbastanza ricca. In Usor, con gli scrittori dell'anni settanta e della nostra influenzata, Sonia Moretti va a giocare a rendere famiglia di Boedi Zulani, appassionato di poesia da giuga a giuga, principi da un pennant francese. Una volta la lingua corsa, più ammaestrata dall'adolescenza, sui su di primi villari. Un'aspirazione che diviene soprattutto con i vatti di vita ogni giorno. Non cerco mica a scrivere proprio a un soggetto o a un altro. Ma dopo, quando ho fatto avviene cosa scrivo, era già scritto assai, a Zidelina, a Zidelina in generale, a un paese, a un'interrogazione che mi porta in questi tempi. Quando metto il barraone, con ciò che cade il busto del gampo, da Zidelina, per noi c'è tutti i suoi soggetti, c'è l'ingiustizia del mondo, c'è l'interrogazione. Infatti, il poema di Apenagredi è un luogo, anzi tutto, di l'interrogazione. Sonia Moretti ha scritto in uno per pareti artisti, come Andiola Budentini, Nadale Walli, Bogevento, Odawagna. A certe volte, quando, perché c'è un cantaore, una cantaore, a Bidiama, ha già un soggetto, ma mica la musica, su un momento mi dice, ecco, volerebbe parlare di gue, d'un soggetto in particolare, tanto cerco a mettermi in niso batti, e a fa, diceremo, a consente, a mo' maniera iuede, a mo' maniera iscrì, e con ciò che la borsa di lui. Il bello nornè, d'Odito Limon, già principi da scrivere di maniera appena originale, da un forum internet, che da distribuiti. E, lo che improvisa già ha cominciato a penna, sedio a doble, già che l'ha acquistato, di luci di scrittura tradizionale, per andare verso l'antre registro, composizioni più moderni. Ciò che mi ha forza e fiato, di riesce a portare la lingua grossa non il terreno, non il radicato. non la usì a canzone elettronica, ma per usare ciò che l'ha fatto Pier Gambini, di belle più che belle, e d'altri inù. Tutte queste maniere di portare ciò che noi avevamo noi, in qualità di lingua, perché la nostra lingua è ricca e ha una ricchezza tremenda, quando ascoltano ciò che si vanno in altri paesi, non c'è mica vergogna. Allora, non c'è mica sauvaggio è mica, ma in ogni caso, voglio vacuere. D'autore isonale, a moernità, un'alleva nuova che suoi estrobrubbio è fronte a ribiare a seguito del lavoro principale dei scrittori isolari. Da va a campare la lingua, in ogni stonda, della società attuale. Intanto io spergo, in ciocco muri alla, parola umanoada, sostegno estrinte e bene, ho solo una spalla, quando umo droppo valla.